Il futuro è tra i rifiuti. Sembrerebbe una svolta green quella abruzzese. Il Consiglio regionale ha approvato la legge enorme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti. Questa legge regionale proietta la nostra regione verso il futuro, verso una gestione sostenibile dei rifiuti, affinché gli stessi una volta trattati possano essere reinseriti nel processo produttivo. Definiamo una serie di azioni, obiettivi che vogliamo raggiungere, perché il nostro obiettivo è quello di poter vivere bene all'interno dei limiti della nostra regione e del nostro pianeta. Non vogliamo più che i rifiuti possano rappresentare un problema per i nostri cittadini, ma vogliamo che possano essere invece una vera e propria risorsa. Per questo motivo vogliamo abbandonare il concetto dell'usegetta, di quel concetto che ha portato grandi danni al nostro ecosistema per arrivare a un'economia circolare di gestione dei rifiuti. Le opposizioni hanno abbandonato l'aula al momento del voto, polemiche sui criteri poco chiari di spostamento dei rifiuti e sulla possibilità di riconvertire le cave in discariche. Nella legge sono previste agevolazioni fiscali per coloro che producono meno rifiuti. Chi inquina paga, il che significa diffondere una tariffazione puntuale in modo tale che i cittadini più virtuosi possono essere premiati.